Da 37 anni Cora commercializza attraverso 2500 punti vendita tutto quello che serve per rendere la propria vettura più confortevole, sicura, ospitale. Oggi diventa inoltre distributore esclusivo delle batterie per auto Duracell in Italia. La casa americana ha infatti deciso di debuttare nel mondo dell'automotive siglando un accordo con Banner, casa austriaca che produce e vende più di 4 milioni di accumulatori all'anno. Le batterie Duracell sono disponibili per tutte le vetture, da Dacia a Porsche, da Abarth a Volvo. Un prodotto con un marchio che di meglio non ce n'è sull'energia, con una tecnologia produttiva ai massimi livelli naturalmente non può posizionarsi nell'area low cost. Le batterie Banner sono un prodotto premium, si posizionano allineate ai migliori marchi di batterie presenti sul mercato italiano. Grazie. 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 Grazie.